Una trasmissione offerta da AIREC, Associazione Italiana Revisori Condominali, al servizio del cittadino per una corretta gestione della contabilità condominiale tramite l'analisi continua delle fonti giuridiche che disciplinano l'attività dell'amministratore. ICAF, Istituto di Conciliazione e Alta Formazione, un organismo di mediazione civile accreditato al Ministero della Giustizia. Dal 2011 gestisce procedimenti di mediazione civile, forma e aggiorna mediatori civili di tutta Italia. Il gruppo Uno Gas vanta un'esperienza ultradecennale nella vendita e commercializzazione di gas naturale ed energia elettrica e di una vasta gamma di servizi accessori. Amici di Seila TV, buoni ritrovati, buonasera. Siamo al nostro terzo appuntamento con AIREC ICAF al servizio del cittadino. nome di una rubrica roboante proprio... Come ti sei trovato nei nostri primi due appuntamenti, caro dottor Ivan Giordano? Sono stati fantastici perché le giornate successive ci hanno restituito riscontri importanti. I vostri telespettatori sono appassionati. Tra l'altro oggi abbiamo allargato il nostro parterno. Abbiamo due illustri ospiti che sono l'avvocata Zaira, l'avvocatessa Zaira Pagliara, mediatore civile professionista presso ICAF e presso l'ordine degli avvocati di Lecco. Benvenuta. Grazie mille. E abbiamo anche il dottor Michele Sorbara che gestisce patrimoni immobiliari della società Quorum. Grazie per l'invito. Non ho sbagliato. Grazie a lei per essere qui con noi. Io vorrei aprire questa terza puntata subito con un annuncio perché ci sono delle scadenze a brevi. Abbiamo dei corsi molto importanti che la vostra associazione sta per mandare in onda, giusto? Sì, sono corsi per l'abilitazione professionale, l'esercizio di amministratore condominiale professionista, revisore contabile condominiale professionista e mediatore civile professionista. E questo sul sito inter della vostra associazione si può trovare tutte le indicazioni per poter partecipare. Esattamente. Anche perché non serve solo la presenza fisica. C'è anche la possibilità di seguirli via webinar, si dice, quindi in diretta da casa praticamente. In diretta da casa, bellissimo. Potenza dei mezzi, oggi possiamo entrare ovunque in tutte le case. Allora, da questa terza puntata, io ti ho, nell'ultimo nostro appuntamento, ti avevo un po' coinvolto e oggi ti faccio un po' lavorare. Non fai solo l'ospite perché qui abbiamo una materia molto interessante. Voi sapete che non ci rivolgiamo solo ad amministratori, revisori, ma soprattutto al cittadino. Perché la funzione di queste due associazioni, che vedete, AIREC e ICAF, si rivolgono soprattutto al cittadino. Nel corso delle precedenti puntate abbiamo parlato di mediazione civile, come molti ricorderanno, e di controversie condominali. Ora vogliamo spiegare ai telespettatori come funziona questa mediazione civile. Sì, allora, per evitare di gestire una causa nelle aule dei tribunali è possibile rivolgersi a un organismo di mediazione. Gli organismi di mediazione lavorano su delega del Ministero della Giustizia, cioè abilitati dal Ministero della Giustizia. All'interno di questi organismi, che sono delle strutture che contengono mediatori, conciliatori, ci sono dei professionisti. Il conciliatore, il mediatore, è un professionista che viene messo a disposizione delle parti, quindi non so, il condomino che deve impugnare una delibera assembleare del condominio, piuttosto che una controversia legata a un recupero di un credito, piuttosto che due soci di una società che litigano per questioni legate allo statuto e alla conduzione della propria azienda. Insomma, due confinanti, questioni legate alle compravendite degli immobili. Le criticità sono le più varie. Possiamo evitare di andare in tribunale, possiamo risolverle davanti al mediatore. Si compila banalmente un modulo, telefonando presso ICAF è possibile avere un'assistenza alla compilazione di questo modulo. Ricordiamo i nostri numeri in sovraimpressione, la nostra email, così se qualcuno vuole messersi in contatto può farlo. Saranno seguiti da un professionista capace di dare loro tutte le informazioni su la possibilità di gestire o meno la loro controversia all'interno di una mediazione. Verranno assistiti anche nella stesura di quella che è l'istanza di mediazione. E a questo punto si compila questo modulo. Si indicano i soggetti che si vogliono chiamare intorno al tavolo del mediatore e poi fa tutto l'organismo di mediazione. L'organismo di mediazione si occupa di chiamare tutte le parti coinvolte da questa controversia, un giorno e un'ora prestabiliti, che non sarà più tardi di 30 giorni da quando questo si è avviato. Quindi i tempi sono molto rapidi e l'intero procedimento di mediazione deve durare massimo tre mesi. Quindi è una cosa velocissima. I costi sono dei costi del tutto calmierati perché sono stabiliti da una tabella ministeriale per cui oltre ad essere calmierati e contenuti ci sono anche dei benefici fiscali, dei crediti d'imposta per chi si serve della mediazione. L'obiettivo è risolvere le cause fuori dai tribunali. L'accordo che si dovesse raggiungere in mediazione ha valore di sentenza. Quindi è importante perché rispettare un accordo in mediazione può avere i medesimi effetti di non rispettare una sentenza. Quindi non stiamo parlando di un mero atto tra privati. Zaira Pagliara, avvocato. Innanzitutto il nome, e sa benissimo qual è il significato di Zaira, che è splendente, lo vediamo, e che è anche prototrice, professione più adeguata, non poteva capitare. Alla luce di quanto ha ripetuto oggi, ma l'aveva già fatto nelle puntate precedenti, il dottor Giordano, quali consigli darebbe a un suo cliente o a un collega sulla scelta di questo organismo di mediazione? Io credo che le due variabili fondamentali da tenere in considerazione siano innanzitutto la competenza del mediatore e il regolamento dell'organismo. Perché a seconda delle sfumature di questi due aspetti, il procedimento di mediazione può essere influenzato sia in negativo sia in positivo. Quando parlo di competenza del mediatore, non parlo solo al pacchetto base conoscitivo che è richiesto dalla normativa di settore, quindi a un corso che insegna al mediatore a diventare abile in tecniche di comunicazione e negoziazione, ma anche parlo della competenza specifica della materia. Quindi è importante che il mediatore non solo sia abile in questo, ma conosca la materia oggetto del procedimento. Ciò significa che deve conoscere la normativa di settore e anche l'evoluzione giurisprudenziale che è sottesa a questa normativa. Perché solo un buon mediatore preparato e competente anche sulla materia può aiutare le parti a creare delle opzioni di risoluzione del procedimento. Per far questo, da legale, quindi il primo approccio verso l'organismo è quello di capire come l'organismo seleziona i mediatori, come l'organismo li seleziona anche in funzione del procedimento specifico e quindi vado innanzitutto a vedere il sito dell'organismo, chiedo all'organismo conferme sulle statistiche di risoluzione degli accordi e studio anche il regolamento per capire se il meccanismo di nomina è di mera turmazione oppure ci sia proprio un vaglio sulla competenza specifica del mediatore. Io scusa, sono un po' curioso, ma il cliente, l'approccio è scettico? Tendenzialmente sì, perché si ha sempre la sensazione che l'unico in grado di risolvere un problema giuridico sia un magistrato, un giudice, ma in realtà un buon avvocato credo sia in grado di trasmettere al cliente che la distanza tra il bisogno, l'interesse del cliente e il diritto a volte ha un gap pazzesco e quindi solo attraverso la mediazione che pone veramente al centro il bisogno del cliente si può veramente raggiungere questo risultato. Io vorrei coinvolgerti Ivana, abbiamo anche una presenza importante che può parlare di un argomento anche interessante. Io posso fare una domanda al dottor Sorbara. Dottor Sorbara, lei so che ha seguito come consulente progetti molto importanti nella realtà del real estate milanese. Nei progetti immobiliari importanti non si può pensare che non si annidino delle controversie, che non si annidino delle criticità, che non si annidino dei problemi da risolvere. E spesse volte quando l'investimento di capitale è importante, il tempo è una risorsa fondamentale, è importante risolvere i problemi rapidamente. Come vede lo strumento della mediazione da quando è stato introdotto nel nostro Paese a disposizione di queste criticità? Ma personalmente ritengo che lo strumento della mediazione sia realmente uno strumento, un gestore che rileva all'interno di una realizzazione dei conflitti di qualunque tipo, dai vizi costruttivi in poi. Se non riesce in prima battuta a intervenire e a risolvere, certamente deve utilizzare questo strumento. Lo strumento c'è, lo strumento è valido, lo strumento ha un grande futuro. Io sono altrettanto convinto che il futuro di questo strumento è legato alla capacità del mediatore. Io ho visto conflitti risolti perché il mediatore era competente e veramente capace. Ho visto conflitti non risolti perché non c'era specializzazione nella materia. Volevo dare un breve richiamo. Qual è la differenza tra... Non ho tirato le orecchie. No, 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 richiamo di argomento. Una gaccia. Chi propone una mediazione è molto più disinvolto nell'ufficio del mediatore che non nell'aula del tribunale. Si sente più protagonista, può parlare, può partecipare abbondantemente. E fra l'altro ha la certezza, come diceva Ivan, che i tempi sono fissi e i costi sono già preventivabili di questa mediazione. Questo è importantissimo. Adesso verifichiamo questo, però vi chiedo un attimo di pausa. Dobbiamo dare la linea alla regia e poi torniamo in studio. Eccoci di nuovo in studio per il nostro terzo appuntamento. Ricordo i nostri ospiti, Ivan Giordano, Zaira Pagliara e il dottor Michele Sorbara. Ve li ho presentati all'inizio. Ci siamo fermati su una riflessione del dottor Sorbara. Vogliamo dare una piccola replica? Sì, credo che Michele abbia proprio centrato il focus, nel senso che mentre nel giudizio la parte di fatto è rappresentata dal legale attraverso degli atti e attraverso un contraddittorio che è prettamente tecnico davanti al giudice e al di là di un contesto specifico che è quello della comparizione parti finalizzata alla conciliazione, in mediazione la parte sta al centro e la vera protagonista del conflitto, anzi un buon avvocato, è in grado di indietreggiare un pochino sulle questioni meramente giuridiche, che non sono proprio il fulco della mediazione, ma di lasciare che la parte faccia emergere con il mediatore quello che è il vero interesse e il vero bisogno e quella che potrebbe essere una soluzione equa e durevole per entrambi i protagonisti. Giordano, voglio parlare di qualche numero. Sì, mi collego... Facciamo venire mal di testa a qualcuno. Mi collego a quello che diceva Pocanzi, Michele, relativamente alla serenità con la quale le parti si siedono davanti al mediatore e invece un contesto molto più rigido, molto più impegnativo, quello dell'aula giudiziaria. Perché? Perché parlando di numeri, noi in mediazione abbiamo i condomini, abbiamo le banche, le assicurazioni, abbiamo gli ospedali, abbiamo le pubbliche amministrazioni, abbiamo gli imprenditori, abbiamo i cittadini. La norma dice che chiunque può andare in mediazione. E allora vediamo quando la mediazione funziona di più e quando la mediazione funziona di meno. Perché in questi 5 anni, 7 anni, dal 2010 al 2012, dico 5 perché poi lo sviluppo ha avuto un approccio un po' più tardivo, quindi in realtà si è vissuto negli ultimi anni il boom della mediazione, abbiamo potuto apprezzare quei contesti nei quali la mediazione funziona meglio. Allora, successioni ereditarie. Spesse volte la controversia nasce con un apparente profilo di natura patrimoniale per poi scoprire nel corso della mediazione che i problemi sono problemi storici legati ai rapporti familiari, legati ai rapporti interpersonali dei soggetti coinvolti dalla lite. Lì il mediatore agisce, agisce sui bisogni, agisce sulle emozioni, agisce sulle dinamiche interpersonali e gli accordi sono frequentissimi. Controverse societarie, non pensiamo alle multinazionali, pensiamo al tessuto imprenditoriale che riguarda i nostri territori. Abbiamo società di persone, società di capitali, SRL, eccetera, ma spesse volte dietro queste aziende abbiamo delle famiglie o poco più che famiglie, amici. Quando un'azienda è coinvolta da una controversia per 3, 4, 5 anni, il valore di quell'azienda ha una curva decrescente. Più va avanti il processo, meno barrà quell'azienda in futuro, perché l'imprenditore ha bisogno di dedicare la propria intelligenza, le proprie energie, le proprie competenze nel fare business, non nel gestire una controversia, non nel contrapporsi alla persona con la quale ha lavorato fino a ieri. Lì il mediatore lavora perché agisce sui bisogni, gli imprenditori sono tra i migliori soggetti da avere in mediazione, amministratore, condominiale e propri amministrati. Ma sarà mai possibile che l'amministratore corteggia i condomini per ricevere incarichi e poi fa causa ai condomini per recuperare le spese? Io prima chiedo al condominio di votarmi e il giorno dopo gli devo fare causa, perché comunque le rate condominali le devo portare a casa, quindi qualcosa devo fare. Quindi non sto dicendo che sia sbagliato, sto dicendo che c'è un cortocircuito in questo meccanismo. La mediazione consente di recuperare i crediti all'interno del condominio dicendo al condomino che non paga le spese, guarda caro condomino che io dovrò mandarti all'asta la casa, dovrò colpirti il conto corrente o il quinto dello stipendio. Vieni in mediazione, dimmi tu come mi puoi pagare, porta tu come garante tuo figlio, tua moglie che io diversamente non potrei aggredire, ma se tu mi dai qualche garanzia in più io potrei anche venirti incontro in una dilazione più favorevole. È un elemento di dialogo che risolve problemi che spesse volte davanti al giudice non si possono risolvere perché il diritto non li contempla, io non posso aggredire il patrimonio di un soggetto che non è il mio debitore. Se io penso ai diritti reali, quante volte si ha la casa al mare o al lago, dopo due o tre anni che abbiamo la casa nasce una controversia con il vicino di casa, andare in vacanza non è più un piacere. Magari la persona con cui ho condiviso il barbecue per n volte e poi andare. Io ho tre mesi nei quali mi metto la prova, se riapro il dialogo a volte è la comunicazione che non consente alle persone di… Dottor Solbano è d'accordo. Ma io facevo una riflessione, adesso mi ero fermato un momento alle morosità, io credo che qui il ruolo lo giochi il gestore o l'amministratore e facevo un'altra riflessione, nel nostro paese c'è un milione di condomini, un condomino conferisce all'amministratore la sua casa, milione di condomini, ma sul territorio, territorio nazionale, il condomino conferisce all'amministratore la gestione del suo bene che spesso è la cosa più importante che ha come patrimonio, gli conferisce la possibilità di determinare i budget, farsi richiedere le rate e gli conferisce anche la possibilità di fargli il decreto ingiuntivo. Allora qui il problema è la figura centrale dell'amministratore, delle qualità dell'amministratore o del gestore. Per fare un inciso sulle morosità è vero che purtroppo si arriva ai decreti ingiuntivi a sollecitare i costi, un amministratore saggio o un gestore organizzato deve fare un monitoraggio dei suoi dei proprietari, dei condomini, degli inquilini e monitorarli mese per mese, vedere qual è l'andamento dei propri pagamenti e accorgersene per tempo e intervenire per tempo quando ancora le somme in pagamento sono veramente irrisorie. Diversamente quando si consolidano debiti importanti purtroppo si arrivano agli strumenti legali. Sono argomenti molto interessanti, io ho una domanda da fare, non vorrei mettere in difficoltà nessuno, io provo a partire dall'avvocato, vediamo se, perché sento parlare di un milione di alloggi e è chiaro che oggi gli amministratori devono essere presenti per legge nella gestione dei contavigli. Ecco ma dal suo punto di vista, dalle sue esperienze professionali, è chiaro che non tutti gli amministratori sono all'altezza, poi ci sono zone dell'Italia dove possiamo immaginare che tipo di amministratore può esserci, eccetera, eccetera. Questo comporta grossi problemi. Sì, comporta grossi problemi perché anche nell'ambito dell'amministrazione la formazione è fondamentale. È fondamentale e si aggancia un po' al tema della revisione che ha trattato il dottor Giordano nel corso della prima puntata, perché non tutti gli amministratori sono necessariamente televisori e probabilmente una buona conoscenza anche della materia da un punto di vista fiscale sicuramente aiuta l'amministratore a svolgere meglio il suo lavoro. Anche perché spesso e non c'è molta consapevolezza anche in ambito legale, un decreto ingiuntivo poi cela delle opposizioni con dei risvolti anche importanti in punto di spese proprio per degli errori di contabilità che secondo la giurisprudenza ormai possono portare non alla mera annullabilità della delibera, ma all'annullità in senso stretto e quindi lasciano aperte situazioni di incertezze che possono durare per parecchio tempo. Sai che sono curioso Giordano, ma proprio a fronte di questo, ma può essere che là dove c'è una cattiva amministrazione condominiale ci sia meno lavoro per quanto riguarda il vostro settore? Cioè meno casi? Allora, devo dire che è un problema soltanto di differimento temporale. Non intervenire sul problema quando il problema nasce e aspettare che diventi patologico apparentemente significa non servirsi di questi servizi innovativi anche di gestione delle controversie stragiudiziali. non me ne servo, conseguentemente meno indotto per la nostra attività, i condomini non percepiscono la gravità del problema, dopodiché cambia l'amministratore, il nuovo amministratore fa uno screening della effettiva realtà, restituisce alla prima assemblea la situazione e dice signori abbiamo questa controversia che non è stata affrontata con il costruttore e questi recupero crediti che non sono stati affrontati e lì occorre che i condomini investano denaro per risolvere controversi, ma più in là si interviene e più è improbabile ottenere dei risultati di soddisfazione. Quindi allacciandomi sia a quello che diceva l'Avvocato Pagliara che il Dottor Sorbara, intervenire con professionalità, avendo le competenze che vanno un po' oltre nella capacità gestionale, nella capacità di analizzare il conflitto e intervenire presto, utilizzando strumenti economici come la mediazione, non è la panacea di tutti i mali, però è veramente un importante filtro, perché se noi pensiamo dando dei parametri che il recupero crediti condominiali fatto in mediazione, su situazioni non patologiche, su situazioni fisiologiche, verifico le rate, faccio il sollecito, il sollecito 70% dei risultati positivi, questo è un risultato importante. E su questi risultati importanti io devo interrompervi, il tempo è volato, anche questa settimana siamo andati in conclusione, a questo punto mi dispiace che l'ho fatta parlare poco, caro Dottor Sorbara, però è precettato da questo momento anche per la prossima puntata così approfondiremo altri discorsi. Non parliamo di Giordano che è guai se si muove dai nostri studi, no, ti lascio andare a casa per questi giorni. Avvocato, spero di rieverla qui, ospite in questa trasmissione. Volentieri, grazie per l'opportunità. A tutti voi grazie per questa attenzione, vi ricordo le nostre repliche domani venerdì alle ore 17 e domenica alle ore 22 potete rivedere questa terza puntata di AIREC ICAF al servizio del cittadino. Buona serata a tutti. Una trasmissione offerta da AIREC, Associazione Italiana Revisori Condominali, al servizio del cittadino per una corretta gestione della contabilità condominiale tramite l'analisi continua delle fonti giuridiche che disciplinano l'attività dell'amministratore. ICAF, Istituto di Conciliazione e Alta Formazione, un organismo di mediazione civile accreditato al Ministero della Giustizia. Dal 2011 gestisce procedimenti di mediazione civile, forma e che aggiorna mediatori civili di tutta Italia. Il gruppo Uno Gas vanta un'esperienza ultra decennale nella vendita e commercializzazione di gas naturale ed energia elettrica e di una vasta gamma di servizi accessori.